Buonasera a tutte, ben ritrovate. Continuiamo il nostro studio sulla mechizza. Brevemente ricordo quello che avevamo detto la settimana scorsa, cioè che a seconda di quale opinione si ritenga prevalente, cioè se ci si appoggi sull'idea che lo scopo della mechizza sia di evitare il mescolarsi uomini e donne e che questo porta a deteggiamenti frivoli e non adeguati all'atmosfera del beta kineset, o se invece lo scopo della mechizza è proprio che l'uomo non debba vedere del tutto la donna perché potrebbe essere causa di pensieri impuri, inadeguati nel momento della tefilà e sappiamo che la tefilà contiene parti di ringraziamento a Kadosh Baruch Hu, di lode a Kadosh Baruch Hu e anche di richieste a Kadosh Baruch Hu e se il nostro pensiero non è concentrato su queste espressioni c'è il rischio che queste nostre lodi e ringraziamenti soprattutto le nostre richieste non vengano accolte e quindi se si ritiene che l'uomo sia turbato anche solo dalla vista anche parziale di una donna mentre dice tefilà allora la mechizza secondo chi segue questa opinione deve avere l'altezza tale da coprire completamente la donna e a seconda punto di quale di queste due opinioni si segue l'almechizza avrà una struttura diversa se ci si bada sull'opinione più rigorosa che è meglio che la donna non sia vista del tutto l'almechizza dovrà essere alta almeno due metri e cioè coprire completamente la donna se nel beta kineset c'è una esrat nashim a un piano superiore anche nelle esrat nashim ci dovrà siccome quando la donna si alza in piedi nei momenti della tefilà in cui è necessario stare in piedi poi viene la balconata diciamo la ringhiera della balconata non è sufficiente quando si alza in piedi a coprirla tutta in questo caso si ritiene che nel beta kineset bisogna aggiungere delle delle finestre delle tende che coprano anche la donna quando in piedi e questo è per esempio come fatto il beta kineset di di rehovi lella jerusalem tempio italiano di jerusalem e fra l'altro avevo per curiosità avevo ero andata a guardare la voce mi chizza nell'enciclopedia giudaica e riporta proprio alla fotografia per far vedere un tipo di mi chizza riporta la fotografia proprio del tempio di italiano di jerusalem in rehovi lel e perché è particolare appunto con questa balconata che poi anche queste non saprei come chiamarle queste ulteriori finestre che si possono aprire un pochino verso l'avanti e questo e poi soprattutto perché molto bello perché era il beta kineset di connegliano veneto come sapete anche a venezia e città qualcosa del genere nella scuola levantina sono stata recentemente era così e quindi se si ritiene che l'uomo non debba vedere la donna alla se la donna di sopra bisogna aggiungere qualche cosa una tenda se la donna è al piano inferiore la mafizza deve essere alta almeno due metri questa è l'opinione più rigorosa se invece si ritiene che è sufficiente che mi chizza copra la donna fino alle spalle allora se la donna si trova al piano superiore non è necessaria nessuna ulteriore costruzione e delimitazione se la donna invece si trova se il spazio delle delle si trova allo stesso livello della delle degli uomini cioè non esiste una matroneo allora secondo questa opinione che dice che l'importante che uomini e donne non si mescolino e questa è l'opinione sostenuta dalla moshe feinstein sulla base della ruca shul khan allora possiamo e anche da valia iosef la mechizza è sufficiente che sia alta circa un metro e mezzo abbiamo visto una misura di diciotto tefahim che più o meno un metro e mezzo e questo sarebbe sufficiente abbiamo però anche visto che poi anche in relazione a quest'opinione più facilitante si pone il problema delle donne sposate che non si coprano i capelli oppure di quelle che addirittura non hanno dei vestiti che non non corrispondono ai indettami della snut e in questo caso allora anche se chi più facilitanti dicono si distinguono a loro volte in due categorie quelli che dicono che oggigiorno ormai bisogna accettare il fatto che le donne sposate per la maggior parte non si coprono i capelli e che non costituire questo quindi non costituisce più erva non costituisce più nudità e si può pregare anche in presenza di queste donne in questa situazione e quelli che invece ritengono che neanche che i capelli della donna sono nudità e che questa è una regola minatorà quindi non si può accettare una situazione del genere e quelli che ritengono che i capelli scoperti si possano accettare tuttavia insistono dicendo che il altre parti del corpo che normalmente devono essere scoperte come possono essere le spalle una la scollatura quei vestiti che non che non hanno le non hanno le maniche e che sono molto scollati davanti o dietro in questo caso non si può pregare in presenza di queste donne ed è necessario avere se si sa che il betachenese è frequentato da persone che si veste arrivano investite in questo modo è necessario che la verità allora copra almeno fino al collo fino almeno fino al collo si la testa la figura della donna quando sia anche quando sia in piedi e così volevo leggere un'ultima eh teshuva in questo questo argomento che eh del che parla delle queste donne che vanno in giro con i vestiti senza maniche addirittura dice anche nelle strade se vanno in giro così bisogna essere molto rigorosi e severi perché ehm trasgrediscono il dato abbiamo visto le regole non è minatorà dice però mi dera banana e sta considerato in realtà poi ehm ritiene che cita la la mischina nel trattato che tu bot che dice che una donna che eh quindi eh 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 direi che quasi lui dice che in realtà sembra che dica che minatorà perché cita la mischina nel trattato che tu bot che dice che una donna eh che andava al mercato e che filava la lana al mercato eh poteva eh il marito poteva darle il divorzio senza che tu bacio e senza pagarle la cifra che era stata stabilita nella che tu bai in caso di divorzio quindi un un divorzio proprio dato con cause eh valde per non riconoscere la che tu bai e questo perché quando la donna la donna la donna filava la lana eh inevitabilmente le si scoprivano le braccia e se lo faceva in un luogo pubblico all'aperto al mercato eh dove tutti le persone gli uomini lo potevano vederla evidentemente lo faceva in modo consapevole di voler apparire con le braccia scoperte e il marito poteva darle una get senza darle la che tu bai per cui anche nelle opinioni più facilitanti dicevo eh la donna non deve apparire in questo modo al betachenesset e prosegue il ravo viadi a diosef dicendo che questo viene definito cucchim lotovim eh pratiche non eh cattivi costumi come da un'espressione del del profeta Ezechiele ehm e come altre fonti che avevamo visto in passato chi una donna che si veste in questo modo eh porta eh trasgredisce anche la il dettave della Torah che dice di fnei verlo non porre inciampo davanti al cieco perché così si presenta eh davanti all'uomo che si trova in difficoltà a dire la tefilà e si trova in difficoltà eh concentrarsi nella preghiera e ehm e inoltre eh causa anche nel popolo ebraico il fatto che le donne vadano in giro in questo modo causano un'altra trasgressione eh anche questa fonte l'avevamo vista nella che parla di quando si andrà in guerra chi te c'è eh scritto che e ve'yamachaneha kadosh velò irabecha ervat davar vesha meacharecha cioè che il tuo il tuo accampamento sia kadosh sia santo pulito e non eh si appaia in te nessuna cosa nessun tipo di nudità perché il Signore si ritratrebbe da te e dice raveva di avessef su questa base noi dobbiamo eh sperare che le donne non vadano in giro in questo modo che non rendano in puro l'ambiente in cui noi viviamo e dice se però eh non possiamo evitare questa cosa eh noi dobbiamo eh stare dobbiamo cercare comunque di avvertire queste donne che osservino questa queste regole eh sulla base della un'altra mitzvah della Torah o che ha tochiach e tamitecha cioè che bisogna rimproverare il nostro compagno quando noi eh ci accorgiamo che non osserva una mitzvah della Torah e eh alla fine però bisogna anche tenere presente che non sempre eh le eh le laquote retreative a questo eh rimproverare rimproverare chi non chi trasgredisce le mitzvah dicono che eh è bene rimproverare fino a che si sa che si sarà ascoltati ma se eh si sa che il rimprovero potrà causare una situazione eh magari ancora peggiore perché eh la la donna invece di coprirsi eh diventerà ancora più ribelle allora in questo caso quando si sa che il risultato potrebbe essere ancora peggiore è meglio astenersi eh dal rimprovero in questo è scritto anche nel Talmud nel trattato di Yevamot eh si dice come come una mitzvah di dire qualcosa che si sarà ascoltato e anche una mitzvah non dire qualcosa che si sa che non sarà ascoltato ci sono poi eh un'altra cosa che volevo ricordare che comunque eh è mh la mitzvah anche se eh alta e copre completamente la donna deve avere deve dare alla donna la possibilità di vedere l'agba del sefer torah cioè quando il sefer torah viene innalzato in alcune battecanese si fa prima della lettura della torah in alcuni casi in alcuni altri si fa dopo la lettura della torah e a Torino i seferditi se Torino seguono l'uso seferdita e quindi lo fanno prima della lettura del sefer torah e gli schinasiti lo fanno dopo e poi c'è anche chi eh come a Roma mi sembra lo fa sia prima che dopo e le donne è scritto nello Shulchan Aruch è scritto ehm ma re peneketivat sefer torah la am a umedim limino vedisvolo umachasirole fanav leharav eh il l'aspetto della scrittura del sefer torah al popolo c'è la zibur che è presente nel betacheneset e che sta in piedi deve essere fatto a sinistra destra e poi ripetuto davanti e dietro cioè il se sapete quando si alza il sefer torah per farlo vedere al pubblico viene girato da tutte le parti in modo che chiunque si da che parte si trovi da qualunque parte si trovi nel betacheneset possa vedere la scrittura del sefer torah e poi è scritto Shemizwa al kol anashim venashim lirot akhetav velichroa velomar vesotta torah eccetera cioè che è una mizwa proprio delle sia degli uomini che per le donne di vedere la scrittura e di inchinarsi e dire questa vesotta torah e questa è la torah che ha posto Moshe di fronte ai bene Israele quindi anche quelle mechizot che coprono completamente la donna devono prevedere delle aperture o delle degli spazi dove ci sono le tendine le donne in quel momento aprono le tendine dove ci sono quelle quelle grate come dicevamo al tempio italiano di Yerushalayim o in Venezia queste si possono spingere in avanti quindi la donna può guardare giù e vedere il sefer torah questa è assolutamente una cosa che non deve essere proibita e bisogna tenere presente di questo avevo fatto una piccola ricerca anche su quello su come dovevano essere i battea keneset nell'antichità per sapere come appunto come ci si regolava in antichità noi abbiamo solo visto la cerimonia della Sifat di Beto Sheva in cui veniva innalzata questa Tratana Shim sopraelevata ma solo nei giorni di Holamoed di Sukkot e poi lì ci trovavamo effettivamente nel cortile delle donne che era all'esterno del Betta Mikdash abbiamo detto e solo quando c'era questa cerimonia che prevedeva il passaggio degli uomini in questo cortile allora solo in quell'occasione le donne venivano messe in una balconata sopraelevata che poi veniva tolta ma non c'era necessità perché poi quello era il cortile delle donne e ripeto era fuori dal Betta Mikdash e ci sono stati diversi studi e ricerche di come poteva essere se esisteva una mechizia e come era fatta la mechizia nei battea che ne siete dell'antichità il grosso problema è che nel primo millennio dell'era volgare purtroppo tutti i battea che ne siete dell'antichità sono andati distrutti quindi è difficile sapere come erano effettivamente fatti difficile sapere se le donne partecipavano come partecipavano le tefilot sino al 1905 in cui due archeologi tedeschi che si chiamano eric coel e carl watzinge hanno fatto degli scavi e hanno ritrovato nella hanno ritrovato undici quello che ritengono essere stati undici battea che ne siete dell'antichità otto nel galile due nel golan e uno sull'ara carmel e in questi scavi quello che si è ritrovato e che poteva far pensare che si trattasse di Bettaik e Neset erano delle colonne e delle rampe di scale e questi due archeologi hanno in base a questi ritrovamenti hanno esposto l'ipotesi che effettivamente nei battecetese anche nel set dell'antichità esistessero esistesse un esrat anashim sopraelevata questo perché appunto c'erano hanno trovato queste rampe di scale che quindi significavano l'esistenza di un piano superiore e poi perché hanno trovato due tipi di colonne delle colonne più alte che dovevano essere quelle che sostenevano che si trovavano nello spazio ampio centrale alto del Bettaik e Neset e poi un secondo tipo di colonne più basse che farebbero supporre all'esistenza di un matroneo delimitato da queste colonnine più basse nella parte naturalmente l'altezza della parte superiore di questa galleria era più bassa e quindi necessitava di colonne più basse e poi anche che hanno trovato dei pilassi cioè delle colonne d'angolo che potevano essere le colonne d'angolo che farebbero supporre la necessità di sostenere questa struttura superiore che sarebbe stata secondo questi ricercatori questi archeologhi sarebbe stata appunto l'esrata nascime per fatta come una balconata su un matroneo come siamo abituati a vederlo oggi e probabilmente influenzati da i Vatè e Neset degli ultimi secoli hanno ritenuto che così anche fossero fatti i Vatè e Neset dell'antichità e questa solamente un altro studioso della stessa epoca fine 1800 che si chiama Leopold Lev ungherese nel 1884 ha scritto un articolo in cui invece riteneva che i Vatè e Neset dell'antichità in Eretz Israel non c'era nessuna separazione tra gli uomini e le donne e questa sua ipotesi però è stata respinta da gli altri studiosi della sua epoca ed è rimasta diciamo sepolta fino a che in anni più recenti un altro studioso Rav Safrai ha ripreso a considerare questo problema dell'esistenza dell'esrata nascime Rav Safrai Shemuel Safrai è nato in Polonia ma da tre anni già trasferitosi con la famiglia in Eretz Israel è vissuto fino al 2003 è stato anche professore alla Università ebraica di Yerushalayim ed è storia di storia del popolo ebraico ebraico e anche il fondatore della Yeshivat del Mercasarav nel 1922 e il professore Safrai ha ripreso questa opinione del ricercatore tedesco Lev e anche lui ha cominciato a affermare che nei Vatè e Neset dell'antichità in Eretz Israel per lo meno non esisteva una separazione tra uomini e donne non solo ma che le donne partecipavano alla alle riti che venivano svolti nel Betachenesset secondo lui mescolati miscolati insieme agli uomini e a sostegno di questa sua tesi porta delle fonti che in cui si vede che questa separazione non c'era da un lato dice in negativo cioè noi non troviamo nessuna fonte nell'antichità che ci dica che esisteva una separazione tra uomini e donne nel Betachenesset quindi diciamo a silenzio non esistendo nessuna descrizione di una Esrat Nashim dobbiamo arrivare alla conclusione che questa Esrat Nashim lui dice non esisteva ma porta anche delle fonti che secondo lui dimostrerebbero proprio il fatto che le donne si sedevano nel Betachenesset partecipavano alle tefilotti insieme agli uomini queste fonti sono andata a guardarmele sono praticamente riportano tutte quasi tutte le prime fonti che sono segni che cui lui accenna quasi tutte riportano uno stesso midrash una storia che riguarda Rabbi Meir e questo è riportato nel Talmud di Yerushalmine il trattato Sotà il trattato che sappiamo parla della donna infedele tutta la procedura che si faceva quando l'uomo diventava geloso della moglie la portava al Betha Mikdash e il Cohen e scompigliava i capelli l'abbiamo parlato di questa fonte proprio perché sarebbe una prova che la donna portava i capelli coperti e poi le fa bere l'acqua amara e tutto quello che segue e poi questo midrash è riportato ancora nel Midrash Rabbah sia nel Midrash Rabbah al libro di Vaikra al libro di Bemilbar e anche di Devarim sempre la stessa storia riguardante Rabbi Meir che con alcune varianti e la stessa storia racconta che Rabbi Meir il grande maestro del secondo secolo è stato uno dei più degli ultimi allievi di Rabbi Akiva sapete che Rabbi Akiva ha perso tutti i suoi 24.000 allievi durante una pestilenza e poi si è rifatto ancora degli allievi ha continuato malgrado fosse ormai anzianissimo ha insegnato ancora e i suoi più grandi allievi sono proprio stati quelli che ha avuto negli ultimi anni della sua vita tra questi appunto Rabbi Meir e Rabbi Meir poi è stato a sua volta maestro di Rabbi Udana Si e si ritiene che una grande parte del materiale che poi ha costituito la stesura scritta della Mishnah da parte dei Rabbi Udana Si e si è stata proprio fornita da Rabbi Meir e la storia racconta che Rabbi Meir era seduto seduto e faceva una derasha e una certa donna è tornata evidentemente era presente a questa derasha e poi è tornata a casa e ha trovato che la sua candela la candela che aveva acceso all'inizio di Shabbat come fanno tutte le donne quando entra Shabbat si era spenta e questo vuol dire che la donna era arrivata a casa molto tardi e Rabbi Meir faceva delle derasha bellissime che venivano seguiti da tutti e quella sera evidentemente si era protratto un po' più a lungo nella sua derasha appunto che per la prima donna la donna per la prima volta quando la donna era arrivata a casa la candela era spenta e il marito di questa donna l'apostrofa e le dice dove sei stata e da questo capiamo che il marito non era andato al Betachaneset e che il marito non seguiva le derasha di Rabbi Meir infatti dice il Midrash che era un lezzan lezzan oggi vuol dire pagliaccio in realtà è un derisore insomma evidentemente era una persona che non seguiva la tefilot che derideva i rabbini che facevano le derasha non vi partecipava e si arrabbia con la moglie quando lei le dice sono stata a sentire la derasha di Rabbi Meir e lei dice esci da questa casa io non ti faccio più rientrare in casa mia fino a quando tu non avrai sputato in faccia a Rabbi Meir figuratevi che richiesta e soprattutto insomma vediamo qual è l'aspetto di questa persona proprio un lezzan la donna esce di casa e qui le varie versioni vi ho detto si viene riportato in quattro punti diversi in Midrashim alcuni dicono che a questo punto Rabbi Meir ha avuto la visita del profeta Eliau che gli ha raccontato quello che era successo a questa donna secondo altre fonti la donna è arrivata di nuovo al Bet Midrash piangendo e i talmidim hanno chiesto cosa era successo e l'hanno riferito a Rabbi Meir comunque sia stato è scritto che questa donna è arrivata al Bet Midrash che è arrivata al Bet Midrash l'Eit Pallel ed è scritto che Rabbi Meir dopo questa visione dopo questa notizia era andato a sedersi nel Bet Midrash quindi lei va lì lui si era seduto lì perché sapeva che sarebbe arrivata e le dice quando la vede le dice fa finta di essere di avere un disturbo a un occhio e dice c'è qualcuno che sa curare i disturbi agli occhi e lei le dice sì io so curare i disturbi agli occhi evidentemente il modo di curare questi disturbi era sputtare nell'occhio della persona e le dice allora per favore vieni curami e per favore fallo sette volte la donna dice così sono sicuro di guarire bene e la donna procede in questo modo su richiesta di Rabbi Meir Rabbi Meir dice grazie mi hai curato e poi le dice adesso tu puoi andare a casa e dire a tuo marito che non una ma sette volte hai sputtato di fronte a Rabbi Meir e Midrash conclude dicendo guardate quanto è grande la forza del Shalom la importanza del Shalom perché Rabbi Meir rinuncia al proprio onore pur di riportare Shalom Bait in casa di questa donna è anche interessante vedere perché io ho detto che per diverse volte questo Midrash è riportato in vari punti riferimento a diversi passaggi versi della della Torah su cui il Midrash si sofferma è riportato nel Midrash Rabbà libro di Vaikra in relazione nella parasha di Tzave quando parla del del corban Shalomim che era il corban di contentezza di gioia e sapete che Shalom sentite che contiene anche la parola Shalom era il corban che si portava in diverse occasioni tra cui appunto quando una persona aveva ricevuto un grande beneficio e desiderava sdebitarsi con Akkadosh Baruch Hu portando un sacrificio o anche nelle situazioni in cui uno aveva forse un pericolo quelle che sono elencate nel famoso Salmo centosette cioè quelle in cui noi oggi diciamo e in relazione a questo Midrash è portato proprio a proposito di questo versetto della parasha di Tzave che parla della corban Shalomim e dice quanto è grande l'importanza, la forza del Shalom perché anche il corban come sapete nella radice di questa parola corban c'è la parola Karov il corban serve per avvicinare l'uomo a Dio e quindi il corban Shalomim portava ad avvicinare Shalom portava Shalom tra l'uomo e Akkadosh Baruch Hu e poi è portato come dicevo nel Vaikra nel Midrash Rabbà di Vaikra scusate di Benidhar e anche nel Talmud Yerushalmin Sotà che parlano come avevamo detto della donna che viene sospettata di adulterio che viene sottoposta alla prova dell'acqua mare e anche qui il comportamento di Rabbi Meir dimostra che l'importanza del portare Shalom Bait e pace nella famiglia è ancora riportato nel libro nel Midrash Rabbà al libro di Devarim nel versetto in cui si parla nella Barashah di Shopetim eh del del quando di quando si eh il popolo ebraico debba muovere guerra a un popolo che prima di muovere guerra però deve offrirgli la pace e se il popolo accetta la pace e si sottomette a lui è disposto a insomma a vivere in pace a pagare anche delle tasse in questo caso non bisogna più muovere di guerra e anche qui si parla appunto di Shalom dell'importanza dello Shalom ora ehm poi c'è un'altra fonte che ehm professore Shemuel Safrai porta eh per dimostrare che le donne su questa base di questo Midrash il professore Safrai dice vedete questa donna era andata a sentire la Dera Shah era andata poi da Rabbi Meir nel Meta Midrash a Gadol vuol dire che le donne eh stavano insieme agli uomini ora non penso che eh questa sia una prova certa il fatto che le donne partecipassero alla tefilà eh e alla sentissero le derasciotte dei rabbini questo è sicuramente appurato ma questo non vuol dire ancora che stessero sedute insieme agli uomini non c'è una prova certa di questo fatto non c'è scritto da nessuna parte che che lei era seduta insieme e dove ha sentito la derascià e che il fatto poi che sia andata al Midrash per parlargli esattamente come se una donna oggi andasse da un rabbino a fare una scelà o a portare un problema non non vuol dire che si eh siedano assieme durante la funzione nel Betachineset e un'altra prova che porta è un'altra fonte dal Talmud eh trattato a Vodazara in cui si parla eh del Bishul Goim cioè se permesso mangiare un cibo tutto un altro argomento che non c'entra con la tenut ma poi porta a porta a dimostrare di nuovo che le donne partecipavano al erano al e andavano nel Betachineset insieme agli uomini secondo lui eh questo passo del Trattato Vodazara pagina 38 eh dice analizza i casi in cui eh si è eh permesso mangiare un cibo sapete che non è permesso normalmente mangiare un eh determinati cibi se sono stati cotti da un non ebreo eh noi dobbiamo perlomeno aver acceso il fuoco e aver o perlomeno aver dato una rimescolata adesso non entro in tutte queste che sono numerosissime complicatissime qui eh il Talmud ci dice eh che se un uomo aveva messo ad arrostire una certa cosa e poi eh il suo servitore non ebreo proseguiva nella rostitura eh l'importante era che era l'uomo che avesse messo l'ebreo che avesse messo per primo la cosa a rostire e poi si parla di una donna che aveva messo una pentola sul fuoco e che aveva cominciato quindi il processo di cottura e poi era scritto che aveva lasciato la sua domestica non ebrea a dare ogni tanto una rimestata perché il cibo non si condensasse troppo ed era andata scritto ehm eh eh al al ai bagni o al betachenesset e questo secondo il professor eh eh Safrai eh è una dimostrazione che le donne andavano in un betachenesset insieme agli uomini ma qui non è su primo non è scritto assolutamente che poi andando al betachenesset si sedesse insieme agli uomini e detto solo che andava al betachenesset secondo non tutte le versioni del Talmud sono uguali perché in altre è scritto che era andata ai bagni o che era andata al Shuk non c'è la parola betachenesset ma c'è scritto Shuk era andata al mercato era andata a fare la spesa eh probabilmente per avere altri ingredienti da mettere in quella pentola e quindi eh non mi sembra che queste siano delle prove certe che ehm dimostrano che le donne si sedeva anche al betachenesset insieme agli uomini che non esistesse una una separazione inoltre eh se vogliamo ben vedere allora eh qui bisogna poi distinguere tra quella che è un argomento che magari tratteremo la prossima settimana eh tra quello che è la separazione nel betachenesset e quella che invece è la separazione in altre situazioni in cui uomini e donne si possono trovare assieme come eh pranzi eh festivi o anche pranzi in famiglia eh matrimoni eh sede di pesa in cui si trovano tante persone insieme e anche eh questo in questo argomento ci sono tantissime fonti che eh a sostegno del fatto che ci vogliano o meno la mechizza anche in queste situazioni o anche se c'è una lezione di Torah e queste le vedremo eh magari la settimana prossima ehm ci sono delle se vogliamo portare delle fonti generali in cui si vede già che persino fuori dal betachenesset la donna stava le donne stavano separati dagli uomini noi possiamo ricordare eh addirittura visto che è la parashah che leggeremo questa settimana nella parashah di Beshalach eh dopo la Shira Tayam è scritto che eh Miriam è uscita con le donne suonando i tamburi cantando e quindi vediamo che le donne evidentemente non si trovavano insieme agli uomini e poi c'è anche un verso eh del salmo eh centoquarantotto se non arro se non erro che dice eh zekenim imniarim eh betul eh eh betulot eh adesso non mi ricordo bene come come si vede che eh gli uomini mentre i vecchi stavano insieme i giovani eh i ragazzi betulot staccato erano separati dalle ragazze c'è una diversa congiunzione im e ve per far capire che gli uomini stavano insieme ma i ragazzi e le ragazze non stavano insieme e eh quindi parleremo di queste cose eh se Dio vuole la settimana prossima grazie grazie a voi grazie se avete delle domande non riesco di nuovo a spegnere la registrazione grazie sì io avrei una domanda se posso sì certo volevo riuscire a spegnere la registrazione perché magari non c'è piacere che si senta in registrazione non lo so se non lo stesso no no non è niente allora eh no è una domanda c'è chi una donna che lavora in mezzo gli uomini sì perché io faccio l'architetto io sono spesso più vicino agli uomini colleghi sono più maschile che femminile certo sì 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 questo è un argomento che tratteremo c'altro la settimana prossima adesso io mi sono soffermata sulla situazione del betachenese però eh come vi stavo dicendo adesso eh poi si tiene in considerazione situazioni come matrimoni feste e anche la vita lavorativa sicuramente ci sono tutte contemporanei che trattano questo problema e ve le cercherò i matrimoni ci sono divisi però eh eh allora a volte si vedono questi che durante la chuppa gli uomini e donne siedono separatamente questo visto ultimamente negli matrimoni in cui ho partecipato e poi in realtà le tavole che sono miste e i balli a volte mi è capitato di vedere che c'è una due due momenti un primo momento in cui c'è una mefizzà e si fanno i balli tradizionali in circolo gli uomini da una parte le donne dall'altra con questa mefizzà però poi arriva almeno negli ultimi matrimoni che mi è capitato di assistere un momento in cui questa mefizzà non si sa come scompare e cominciano balli di tutti i tipi eh senza più separazione ma non solo separazione architettonica ma anche separazione fisica lì dipende poi ci sono quei matrimoni in cui gli uomini stanno in una stanza e le donne in un'altra stanza quindi non hanno proprio nessuna possibilità di incontrarsi e ci sono tantissimi come al solito tantissimi livelli di rigore e ognuno come dicevo si trova meglio magari in un modo o nell'altro io mi ricordo che quando mi racconto sempre perché quella è stata un'esperienza che ha segnato la mia vita eh quando stavo a New York eh una nostra vicina di casa anziana di origine tedesca ha detto sono stata invitata a un matrimonio ma io non posso sedermi a tavola insieme a mio marito io non ci vado e e questo a lei disturbava io invece eh magari dico eh io a tavola insieme a mio marito mi siedo praticamente tutti i giorni dell'anno e mi fa piacere a un matrimonio finalmente potermi sedere con le amiche che non vedo magari quei matrimoni dove ci si rivede persone che non si sono incontrate per tanto tempo è una cosa di sensibilità personale quello che è l'alaha più che l'alaha insomma le decisioni dei rabbanim sono come al solito come vi potete immaginare ci sono quelli più ricorosi quelli invece che ritengono che non sia un problema che perlomeno durante la cena gli uomini e donne possano sedersi assieme e questo lo svilupperemo se vuole prossimi incontri e anche appunto nell'attività lavorativa sicuramente permesso che la donna è necessariamente stia insieme agli uomini e poi dipende anche dal suo comportamento stare attenti per quello che è possibile perché uno deve salutare deve dare la mano sì 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 certo sì sì sono argomenti che vanno assolutamente trattati e poi c'è anche il problema dell'ichud che si connette poi a questo quando una donna rimane da sola e se una donna lavora in un ufficio con degli uomini anche quello tutto un argomento poi a parte della possibilità di una donna o di un uomo di stare separati da soli e lì c'è tutta una serie di alahot infatti anche riguardo l'ascensore per esempio trovandomi qui a Yerushalayim in ascensore quando mi capita di entrare in un carri di io mi trovo in imbarazzo e lo so meno male non c'è salina aspetti e aspetta che arrivi il secondo ascensore sì 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 certo è normale ho letto delle teshwot perché mi ero già un po studiata anche questa parte dell'info e c'è chi dice che l'ascensore è talmente breve il viaggio che non si può sospettare che possa succedere qualcosa a me io chiedo a Rav se volete sapere l'ascensore che si può purtroppo ma il parrucchiere per le femmine no perché magari io sono al sesto piano scendomi si si ferma cinque entra che faccio esco mi sembra troppo ti può se a fare lì da fastidio secondo me deve uscire lui aspettare perché meglio che lo fa la femmine così tutela questi uomini fatelo voi scendete voi l'ascensore dividete voi il mondo su non bisogna non bisogna arrivare a degli eccessi ripeto le teshwot normalmente dicono che è permesso stare in ascensore perché il viaggio è talmente breve sperando che l'ascensore non si blocchi tra il terzo e il quarto piano diventa un vero proprio problema grazie grazie a voi e arrivederci ciao grazie arrivederci alla prossima